cavità a frequenza 2,98 gigahertz e questo è la curva di discriminazione a più o meno 500 megahertz più o meno 50 megahertz questo tipo di interferometro è sensibilissimo 1,2,3,4,5 5 chilo cicli 5 chilo cicli praticamente è solamente il peso 40 chilo cicli tra questa posizione di massima deviazione e l'opposta sul piano risultane questa è una variazione di un chilo ciclo equivalente a 100 metri al secondo di velocità grazie 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 grazie